Per chi si sta godendo lo spettacolo informo che prima di arrivare i vincitori a solito del lungo dovrà arrivare la macchina del direttore di gara Bravi, bravi, complimenti, il 159 si lamenta perché c'è qualcuno che non ha mai tirato e adesso ha fatto la volata e adesso sentiamo l'impressione a caldo del sesto privato che Alessandro Corre